Al via il Festival delle Luci a Berlino, fino al 20 ottobre i monumenti, palazzi storici e le piazze della capitale tedesca saranno illuminati dai migliori light designer. Giunta la non edizione, la Kermesse delle Luci farà risplendere le principali attrazioni della città, dalla porta di Brandeburgo fino alla torre della televisione che domina Alexanderplatz, passando da Posdamerplatz all'imponente Duomo.